Buonasera, Albano un saluto a Vieste, un abbraccio, un saluto a Vieste, mi ricordo nel 1967 io stavo qua a cantare, era il mese di luglio, ricordo ancora che c'era il direttore del carcere qua, è stato gentilissimo lui e tutta la famiglia e quel ricordo di Vieste è ancora fermo a quei giorni là. Un'occasione particolare c'era un concerto? Un concerto a Vieste, tu non eri ancora nato, ho capito? E' cambiata tanto Vieste allora? Beh penso di sì, però qua è ancora a Vieste che ho conosciuto in quell'anno là. Una domanda, vino come siamo messi questa stagione, sarà buono? Beh adesso aspettiamo il nuovo vino, ma quello che faccio è ottimo, ma non lo dico perché lo faccio io, ma perché so che è ottimo. Grazie. A presto. Allora buonasera a tutti. Buonasera. Ma non c'è? Sonno non è? Il figlio è un po' più di... Non è il sonno. Eccolo con te.